Dov'è il tuo amichetto? Pagherai per la sua vita con la tua. Thanos avrà quella gemma. Questo non accadrà mai. Siete nel regno di Wakanda ora. Thanos non avrà altro che polvere e sangue. Di sangue ne abbiamo in abbondanza. Si sono arresi? Non proprio. Di bombe! 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 Quanti diavolo. L'abbiamo fatta incazzare. Si stanno suicidando. di bombe! Stai indietro, ti bruciacchierei le ali Capitano, se girano intorno al perimetro e si infilano dietro di noi, arriveranno dritti da visione Allora meglio tenerli davanti a noi Come lo facciamo? Apriremo la barriera Al mio segnale, aprire il settore 17 nord-ovest Richiesta di conferma, miore Ha detto di aprire la barriera? Al mio segnale Questa sarà la fine dell'Uakanda Allora questa sarà la fine più nobile nella storia Vula! Wakanda per sempre! Wakanda per sempre! Vula! Vula! Ancora quanto, Shuri! Ho appena iniziato, fratello. Dovresti darti una mossa!